Avanti con il giornale, giornata mondiale del rifugiato, il dramma dei migranti al Napoli Teatro Festival con 629 uomini in gabbia. Anna Teresa Damiano. Dovrebbe essere pronto il servizio. Nel buio si entra nella gabbia, un campo per richiedenti asilo. Noi chiediamo al pubblico di fare uno sforzo per circa due ore di vivere un disagio, un disagio che per dei nostri simili dura giorni, mesi. Loro lo vivranno solo per due ore. Non so se li cambierà, ma in qualche modo spero li faccia pensare. 629 nasce dalla collaborazione tra Nuovo Teatro Sanità e autori spagnoli, greci, italiani. Il 10 giugno 2018 fu vietato l'ingresso nei nostri porti alla nave Aquarius. A bordo, 629 persone. Lo stesso numero dei parlamentari in quel momento. Che almeno si salvi il mio nome! I dettagli, le storie ci restituiscono le identità. Chi attende l'asilo e ricorda chi salva vite, ma pensa a quelli che non ce l'hanno fatta. Chi scatta foto orribilmente perfette, raccontando il dramma. Chi in silenzio, come Darren, da poco arrivato dalla costa d'Avorio, testimoni a torture e violenze sessuali. Il teatro non è la vita, ricordano gli attori, ma prova a lasciare impronte. C'è la giornata mondiale del rifugiato. La nave di Open Arms è ancorata al porto di Napoli. E noi saliremo sulla nave per fare alcuni pezzi dello spettacolo. La nave di Open Arms è accolta al porto di Napoli. E siamo arrivati.